Ermasca al sole, fondoccio impagniato! Non può finarti dei tuoi vicini! Io quando penso... Che cosa? Che questo sfacciato con i fan della disco... Che cosa? Una richiesta ma fatta... ...eva la tua mano... ...e via dicendo... Ma come non lo sai? Ma sì! Io voglio! Cos'è? Lo sai? Ma che è successo? Lo sai? Ma che è successo? No! 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 Corro a cercarlo. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.